Ciao ragazzi sono caro alberto e oggi faccio un doppiaggio di mocchi ok cominciamo super hero super hero cazzo give me money oh dio non farmi male non eh 4 hello gentlemen what é vamos a water monkey ovo hazır nobody get me phone monkey Aspetta, aspetta. Yes! I want this super... looks so hairy! Mucky, what is your name? I don't know, Mucky! You're already! I feel like a superhero. Oh no! Oh no! Hello! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! Hey, I sure did it! What is this? And... Superhero! And... Well... Bluff! oh oh what's wrong man what's it this big pile how pink oh my god the last superhero can't see me again the double in the professor boom oh fuck you ah mommy bye bye Ah, 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 ah! HALA ed ecco qua ragazzi la mia super bellissimo doppiaggio e ci vedremo alla prossima volta ciao